È un passo avanti per tutelare i malati diabetici, però non è una situazione degna per i numeri che ci sono, perché la gente viene ricevuta a 7-8 persone al giorno, quando ne ricevevano 20-30, purtroppo questo coronavirus ha stravolto la vita di noi tutti, ma non solo italiani nel mondo. Il vero problema è che i diabetici sono tanti e abbiamo anche tanti giovani con il diabete 1, che è un problema ancora più difficile avere in famiglia una persona giovane con il diabete. Allora noi chiediamo che si possa arrivare presto a una soluzione, trovare un reparto degno o ritornare in area vasta, come ci avevano promesso, perché così non è più gestibile presso l'ospedale Marche Nord. In tanti momenti l'associazione ha cercato di catalizzare l'attenzione con momenti come convegni. Un mese fa uno importante nella vostra associazione. Ci sono altre situazioni in cui sarete chiamati a riaccendere i riflettori? Ma io credo che per quello che noi stiamo facendo Pesaro, la stampa, tutti che ci danno una mano, portiamo un convegno nazionale di FAN, che è la Federazione Associazione Nazionale Diabetici, a Gabice Mare, il grande hotel Michelacci, dove è aperto anche il pubblico sabato e domenica. Il vero problema è che facendo queste cose noi stiamo combattendo, avendo fatto una stesura nel 2017 che doveva essere la città della diabete, andiamo perfino a Milano San Raffaele, ci criticarono. Si dice che è brutto copiare, però vedendo Milano siamo 30 anni dietro noi. Allora io credo che a un malato potergli dare un po' di speranza, credo che sia importante fare queste cose. Questo convegno aprirà su quello che è la conferma dell'incontro avvenuto a Roma con Speranza, dove dicono più territorio, meno ospedale. Io credo che su questo noi abbiamo fatto una cosa bellissima tre anni fa, allora la vecchia dirigente con la Lorena Monbello, mettendo in piedi l'assistenza domiciliare ai malati non autosufficienti, di cui andavano la nostra infermiera. Pensate, anche questo è stato tolto. Allora mi chiedo, parlano adesso tutti, destra, sinistra, che è la sanità, la sanità, ma noi lo dicevamo da anni che questa sanità non andava bene così come era gestita. Mi fa piacere che oggi hanno capito tutti, sia chi ha perso, sia chi ha vinto, che forse la sanità nel problema delle persone che diventano anziane abbiano problemi di salute e sotto questo profilo credo che l'assistenza deve essere fatta meglio e le organizzazioni devono essere ascoltate, perché se è vero che io non sono una sozione onus di volontari, ma sono anche a tutela del malato diabetico. E avere una denuncia dal Tribunale del Malato perché non è stato fatto bene il lavoro, che per lui è un suo diritto, questo credo che la dice lunga e credo che di qui nel giro di breve si risolva anche il problema di non essere più in neurologia o di essere da un'altra parte o in un altro reparto all'interno dell'ospedale.